E' un Netanyahu sicuro di sé quello che parla a proposito di questa guerra e meglio niente che da secoli ormai attanaglia questa parte di mondo e proprio a proposito dell'attacco che l'edana ha sferato a Israele, lo stesso presidente israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe risposto noi nazioni, noi Israele risponderemo all'Iran. E per quanto riguarda l'imbargo sulle nostre armi, beh, il presidente Macron si deve vergognare. Intanto però le esplosioni a Beirut sono una costante, continuano purtroppo a esserci, non sono diciamo così inosservate ma pienamente osservabili. E ovviamente questo è uno dei dati più tristi di questa guerra che continua purtroppo ad oggi ad essere presente. Una guerra secolare, una guerra da secoli presente in Medio Oriente che purtroppo è una realtà vera e propria, bella e buona del nostro pianeta Terra. Bene, io sono convinto che anche nel futuro prossimo, nel futuro più alto che ci sia, questa guerra continuerà purtroppo ad essere presente. E mi dispiace doverlo dire, mi dispiace doverlo ammettere. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi carissimi utenti di Youtube. Mi raccomando iscrivetevi, commentate, insomma, Israele risponderà all'Iran. Una buona giornata a voi. Grazie.